care teste fiorite bentornate alla nostra rubrica video oggi vorrei parlare dei libri a tema o meglio vorrei farvi partecipi di qualcosa che mi capita assai spesso quando incontro insegnanti quando scrivo quando le persone rispondono a quello cui scrivo mi chiedono delle cose spessissimo mi vengono chieste delle bibliografie a tema mi vengono chiesti dei riferimenti di libri riguardo ad un tema specifico naturalmente io poi quando ho dei progetti con le scuole o insomma quando ho motivo di farlo queste bibliografie poi le creo naturalmente sono bibliografie soggettive sono le mie potrebbero esserci dentro dieci altri titoli ognuno potrebbe metterne degli altri trovare dei collegamenti diversi ma quello che mi preme provare a dire è che le bibliografie pur pensate per un tema specifico non sono in realtà se sono fatte bene delle bibliografie che contengano necessariamente dei libri a tema ovvero non è che devo parlare in classe l'insegnante deve parlare oppure la mamma ha bisogno di uno spunto per parlare di qualcosa si cerca il libro specifico non lo so più la scuola piuttosto che la pappa piuttosto che la guerra o il bullismo insomma vari temi tutti legittimi non è sempre detto che un libro pensato per parlare di quel tema specifico sia un libro che faccia il suo mestiere fatto bene cioè che riesca a comunicare qualcosa di importante al piccolo lettore al giovane lettore attraverso la sua scrittura la discriminante non è se il libro è a tema o se il libro non è a tema la discriminante è se il libro è un'opera di letteratura oppure non lo è spessissimo i libri a tema che sono quelli poi prodotti da alcune case editrici oppure in alcune collane che si sa che hanno una facilità di vendita proprio perché incontrano i gusti del genitore o dell'insegnante non sono di grandissima qualità perché evidentemente dietro non c'è un lavoro letterario o iconografico profondo immagine e testo per me vanno sempre assieme in questo senso allora però può succedere anzi succede sempre che quando ci troviamo davanti un libro che un libro a tutti gli effetti quindi rientra nell'ambito della letteratura questo pur raccontando di altre cose possa invece fare da educatore silenzioso direbbe jela lapman cioè far passare dei messaggi etici morali ma soprattutto morali in senso lato soprattutto mi verrebbe da dire civili e civici che vengono passati in qualche modo per osmosi senza mettere la bandierina di ti sto parlando di questo mi raccomando fai attenzione perché così ti devi comportare questo così è meglio che tu che tu faccia i libri belli parlano della vita per ciò che per ciò che è in varie forme incontrare un libro di letteratura è sempre più arricchente che incontrare un libro di a tema facendo faccio una parentesi ci sono libri di letteratura anche ci sono libri a tema che diventano anche dei buoni libri a livello letterario non è così così tanto tanto frequente però può succedere quindi proviamo a pensare mi piacerebbe che quest'anno l'anno scolastico si aprisse con delle letture con delle letture che ognuno sceglie diciamo cosa dedicare ma che facciano capo dei libri di grandissima qualità penso per esempio se uno volesse introdurre l'anno o comunque se volessimo raccontare ai bambini che cos'è il rispetto reciproco che cosa sono le relazioni 11 pari e pari anche tra diversi ma insomma che cos'è il rispetto dove dove finisce l'io comincia l'altro e dove invece l'io e l'altro si possono anche amalgamare potremmo dirlo in tanti modi didascalici potremmo anche trovare qualche libro a tema in questo senso però mi vien da dire meglio di di mio mio chi potrebbe farlo mio mio è un albo illustrato edito da orecchio acerbo di sandal stoddard illustrato da remy charles e racconta la storia di un bambino che parla del suo gatto proprio il suo gatto il suo gatto suo e di tutto ciò che vuol far fare al suo gatto e che il gatto non apprezza affatto perché quando il bambino comincia a vestirlo comincia a tenerlo stretto al gatto non piacciono queste cose il gatto si offende a un certo punto e se ne va e la cosa è più bella è che questo libro ad un certo punto ricomincia e ricomincia dalla parte del gatto ti dice adesso ti spiego io chi sono e cosa sono io sono il mio gatto di me non il tuo gatto e sono un animale selvaggio e sono un animale che va rispettato e quindi il bambino a un certo punto si domanda ma allora siamo inconciliabili io e te no non siamo conciliabili siamo siamo non siamo inconciliabili possiamo stare insieme nel momento in cui ognuno rispetta l'altro e ognuno cede qualcosa di sé per l'altro nel rispetto assoluto è un albo bellissimo tutte queste parole in più che ci ho messo io non servono niente servono per cercare di dirvi quanto è bello e lo fanno in maniera piuttosto più piuttosto banalotta ecco mi verrebbe da dire però effettivamente mio mio funziona da questo punto di vista e quando è secondo me un libro funziona e quando soprattutto torna su ecco ma torna su come quando si impara una poesia memoria che ti viene al momento giusto magari ti sovviene che non c'entra niente in quel momento ma c'è una parola che ti ha dato il gancio gli albi o i libri fanno così quando ne incontriamo tanti di bella qualità e quando una situazione della nostra vita ci riporta per una qualunque per un qualunque motivo direttamente lì cioè direttamente a quel testo che chissà perché ci torna in mente in quel momento per esempio un altro libro che assolutamente non è a tema non ha un tema specifico ma potreste usarlo per qualunque cosa vi venga in mente è quelli di sopra e quelli di sotto che ritroverete anche in altri miei video in tantissimi post perché è un albo che amo moltissimo edito da calandraca ed è scritto illustrato da paloma valdivia è un libro che ti spiega che esistono due tipi di persone quelle di sopra e quelle di sotto che sono uguali cioè quelli di sopra sono quelli di sotto e quelli di sotto sono quelli di sopra però al contrario ognuno ha delle piccole differenze e quando sopra quando sopra c'è il sole sotto invece c'è la pioggia questi vanno al mare questi invece hanno la pioggia e l'ombrello e soprattutto cosa succede e questo non proviamo tutti sempre che quelli di sopra pensano che quelli di sotto siano diversi e viceversa questo è un libro che se volessimo proprio pensare se volessimo categorizzarlo è un libro che è perfetto per lavorare sullo stereotipo che cos'è lo stereotipo come si forma e come invece si destruttura e si e si annienta perché lo stereotipo si può annientare o quantomeno si può controllare d'altra parte un libro che magari uno potrebbe utilizzare anche per esempio in ambito geografico effettivamente ci sono quelli di sopra e quelli di sotto sono tutti uguali anche se pensiamo che alcuni siano diversi c'è il gioco delle stagioni che funziona è un albo che va bene per tutto così come un albo straordinario che va bene a io lo uso quasi sempre per raccontare il razzismo per spiegare senza spiegarlo per leggere che cos'è il razzismo ed è sofia la mucca musicista è un albo per bambini molto piccoli direi che già dai dai due tre anni si può cominciare ad apprezzare sofia che cosa di straordinario sofia che una mucca musicista che va a cercare un'orchestra e ogni volta trova un'orchestra che la rifiuta perché lei non è sufficientemente grossa non è sufficientemente alta non è sufficientemente marrone non ha le corna sufficientemente grandi insomma non ha nulla che vada bene perché le orchestre devono essere omogenee per tipologia di animale sofia si arrabbia talmente tanto viene così indignata da questa selezione che nulla a che fare con la musica ma solo con l'aspetto esterno esteriore che poi si mette in combutta con un cane che ha avuto i suoi stessi problemi e decidono di fondare un'orchestra di soli musicisti di vero talento quindi un'orchestra mista dove in realtà si trovano tutti i reietti delle altre orchestre il lupo che è troppo sentimentale la zebra che ha la gamba di legno e via dicendo perché è un libro che usiamo spesso io uso spesso per cominciare a far passare i semi antirazzisti perché i bambini si indignano con sofia tutti ci indigniamo con sofia tutti troviamo assolutamente folle che una musicista come sofia venga categorizzata in base a quanto pesa rispetto a un elefanto in base a quanto è alta rispetto all'orchestra di di giraffe i bambini questa cosa la sentono subito la sentono immediatamente come un'ingiustizia e allora l'ingiustizia di sofia è un attimo farla diventare l'ingiustizia verso qualcun altro verso cui nutriamo gli stessi dubbi di tipo stereotipato e pregiudiziale dietro tutto questo vi faccio un ultimo esempio di un albo che che serve sempre perché vi fa lavorare sul punto di vista ecco credo che potremmo aprire mi piacerebbe aprire l'anno scolastico con delle letture sul punto di vista il punto di vista è quello che ci permette di di entrare in empatia con gli altri e se non in empatia almeno di cercare di comprenderli o almeno almeno di capire che il nostro punto di vista non è il solo esso e soprattutto non è quello necessariamente corretto il nostro e per questo va bene ma non è che quello dell'altro non va bene perché non è il suo e soprattutto che le cose non sono oggettive quello che vedo io in questo momento e l'interpretazione che ne do non è quello che vede un altro anche se siamo davanti allo stesso oggetto o alla stessa situazione è un albo che per bambini un po più grandi perché bisogna leggerlo più volte per capire il gioco che fa ma che è assolutamente essenziale per questa narrazione dei punti di vista e voci nel parco voci nel parco di antony brown edito da camelo zampa è un albo illustrato bellissimo racconta di quattro voci nel parco la vicenda è sempre la stessa l'orario è sempre lo stesso i personaggi sono sempre gli stessi ovvero una mamma con suo figlio e il cane che vanno al parco un papà con sua figlia il cane che vanno al parco e che si incontrano sulla stessa panchina nello stesso lato del parco ognuna delle quattro voci racconta la stessa storia dal proprio punto di vista e naturalmente tutto cambia la prima voce è quella della mamma che però è una signora decisamente arrabbiata impaurita e quello che vede lei del parco e quello che ci racconta lei è tutto giallo di rabbia e di fuoco vedete che persino prendono fuoco gli alberi quando passa lei il padre invece di smugge della protagonista è evidentemente un po depresso anche se lo stesso orario lui vede tutto buio addirittura questo è quello che lui vede del suo cane che corre è tutto triste tutto scuro anche se smugge alla fine riesce a tirarlo su di morale invece quello che vede il figlio della signora è è questo e l'oppressione lo vedete che lui è sempre dentro l'ombra della madre lui vede tutto attraverso gli occhi della madre fino a quando non incontra smugge e a questo punto vedete che il punto di vista si cambia questo incontra l'altro punto di vista è un certo punto anche il solo il cielo del bambino comincia a rischiararsi e poi arriva l'ultima voce che quella di smugge che una voce assolutamente positiva vede la mamma del bambino così come una brutta cattiva veramente antipatica e lui lei vede tutto sole vede persino vedete gli alberi fatti a forma di frutta lei vede solo cose belle e sono punti di vista diversi non sono quattro storie qualche bambino mi ha fatto notare giustamente che i punti di vista in questa storia sarebbero sei mancano quelli dei due cani e per esempio questo sarebbe proprio un bel gioco da fare in classe proviamo a raccontare il punto di vista dei cani di questa storia è un modo per giocare col fatto che ognuno vede le cose secondo la propria lente se siamo arrabbiati o frustrati vediamo tutto in un certo modo se siamo schiacciati dalla presenza di un'altra persona tutto cambia se siamo depressi cambia ancora se siamo semplicemente gioiosi come sbuggia tutto prende un altro colore e questo è qualcosa che i bambini non sono abituati a riconoscere non lo sappiamo fare noi adulti tanto meno però in qualche modo mi sembra che i bambini ce l'abbiano più naturale questa capacità di mettersi nei panni degli altri ma d'altro lato essendo molto molto autocentrati non riescono a riconoscere questa qualità che hanno o comunque non riescono ad soggettivizzarla per cui quando quando gli dici cosa pensi che il tuo compagno racconterebbe della tua giornata di scuola oggi non non percepiscono che ognuno potrebbe rilevare delle differenze aver vissuto la giornata in un modo diverso invece proprio così e se lo portiamo alle estreme conseguenze questo gioco del punto di vista che un gioco c è un gioco che ci porta molto molto lontano perché possiamo davvero occuparci di ciò che l'altro è di ciò che l'altro pensa ecco mi fermo mi fermo qui nella proposta dei libri che sono sono vari sono quelli che oggi vi volevo mostrare perché mi premeva dirvi questo non fatevi abbagliare non facciamoci abbagliare dai libri a tema è molto semplice cercare un libro che parli esattamente di ciò che vogliamo noi non è detto che questo libro esista non è detto che se esiste quello che va bene a noi d'altra parte non è vero che se c'è un altro libro che apparentemente non parla di quello che vogliamo noi però non riesca lo stesso a comunicare ciò che ci interessa comunicare ovvero la differenza la fa la qualità e la qualità è una qualità narrativa e iconografica come si fa a scegliere e bisogna studiare un po di libri e bisogna avere una bibliografia ampia per avere come dicevamo le altre volte tante frecce all'arco per prendere i lettori uno per uno non scegliere insomma non scegliamo la strada sempre più semplice possiamo imparare a conoscere libri attraverso le case editrici possiamo imparare a conoscerli attraverso la scrittura ci vuole all'inizio un po di sforzo ma insomma credo che un insegnante questa cosa dovrebbe imparare a farla per proporre le cose migliori quando un libro non è di qualità o quando un libro non ha una qualità letteraria iconografica elevata è un libro che va perso e nell'andare perso non solo non fa del bene ma di solito fa del male perché un non lettore che incontra un libro brutto sarà un continuerà ad essere un non lettore un non lettore che incontra un libro bello ha una possibilità in più di diventare lettore e quando dico diventare lettore intendo come abbiamo provato a dire altre volte aumentare i processi cognitivi risciacquare le sinapsi aumentare le capacità cerebrali e soprattutto dare delle possibilità alla propria esistenza completamente diverse rispetto ad un non lettore quindi questo mi pare fondamentale quindi nell'augurarvi un buon inizio di scuola per chi inizia il 12 settembre così come da noi in veneto anche dopo vi auguro un anno pieno di letture che vorrete fare in classe voce alta con i bambini che vorrete proporre senza nessuna forma d'obbligo ma come puro piacere e letture che soprattutto tengano conto della qualità e del piacere dei lettori senza dover pagare il prezzo e l'appesantimento di una prospettiva didascalica che non è didattica ma è didascalica e di un pedagogismo che quando siamo in ambito letterario forse non è necessario ci sentiamo e ci vediamo venerdì prossimo con la prossima rubrica ciao a tutti